Uno dei centri più caratteristici della campagna terranovese è senz'altro Monte Marciano e la tradizione vuole in questo periodo che ci sia una bella festa, la festa d'autunno. Parliamo con Daniele Landi, uno degli organizzatori. Siamo già all'ottava edizione e indubbiamente negli anni è cresciuto sempre di più di persone che frequentano questa festa perché effettivamente il paese è carino e poi ci sono tante attrattive e si degusta i prodotti del periodo quindi degusteremo le caldarroste, il castagnaccio, la polenta nera poi faremo le schiacciatine al forno, fagioli zolfini, ci sarà il sommelier con i vini insomma ci sono tanti prodotti di aziende locali che venderanno formaggi, miele, castagne, noci insomma ci sono tutte le prerogative per passare una bella giornata. Nello zaino cosa portare? Senz'altro le scarpe da trekking, perché? Certo, alle due e mezzo, cercando di essere puntuali perché poi rimettendo l'ora la sera avanti quindi fa buio presto, partiremo per una camminata e andremo giù a Campo Lacconi però attraversando il sentiero storico che c'era tanti anni fa, l'abbiamo un po' risistemato insomma per poterci camminare, è un po' il sentiero storico dei paesani e andremo su a Campo Lacconi dove grazie, e io lo ritengo a ringraziare Federico Fazzuoli ci farà visitare la sua azienda e ci darà una degustazione dei suoi vini preciatissimi L'assessore Barbuti Montemarciano sì, è una bella tradizione perché ritroviamo sapori tipicamente autunnali e quindi sarà un pomeriggio all'insegna delle castagne, del buon vino e di tanti altri prodotti e rappresentano un po' la nostra enogastronomia, quindi ci sarà lo zolfino, ci saranno insomma schiacciate quindi sarà un momento per stare insieme e per assaporare un po' di prodotti una bella passeggiata all'interno delle balze con la visita alla fattoria di Fazzuoli e quindi insomma se avete voglia di fare una bella camminata ve lo consiglio ringraziamo ancora gli abitanti di Montemarciano perché insomma è grazie al loro impegno che riusciamo a presentare insomma questo tipo di iniziative e quindi vi aspettiamo domenica 25 ottobre